Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Lo so, magari vi aspettavate il video del Broadlink, ma ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando, ci vuole un po' di tempo. Ci sono arrivate altre comunicazioni da altri iscritti e non che ci chiedevano quando lo fate. Ci stiamo lavorando, dateci un po' di tempo e arriveremo anche a quello. Ma nel frattempo abbiamo preso un altro... Un altro... Un altro... Max, iniziamo bene. E via. Abbiamo preso un altro prodotto. Un leader. Ecco, bravissimo. Un leader nel settore del comando infrarossi, ma solo del climatizzatore. Chi è, Michi? Stiamo parlando di Sensibo. Eccolo qua. Lo abbiamo trovato su Amazon ad un prezzo di 89 euro. Sappiamo che di solito è 99. Questa volta abbiamo trovato questa offerta a 89 e lo abbiamo preso. Lo testeremo. In questo video faremo solo l'unboxing. Proveremo a capire un pochettino le peculiarità di questo prodotto. Poi quando lo proveremo andremo a vedere come al solito l'installazione cercando di essere il più minuziosi possibili nello spiegare cosa andiamo a fare. Un spiegamento. Un spiegamento di forze. Noi dobbiamo smettere di fare i video in settimana al tornato del lavoro. E quindi per adesso lascio la parola a Marco che vi spiega un pochettino perché questa scelta e che cos'è. Si può comandare, direte voi, il climatizzatore anche dal Broadlink. Giusta osservazione. Abbiamo fatto anche i video inerenti. Magari vi mettiamo la schedina qui sopra. Giusto. Però col Broadlink siamo sempre soggetti ai soliti problemi che ormai vi abbiamo elencato mille volte. Questo è un prodotto che da tutto quello che abbiamo letto e da esperienze di nostri amici non ha mai dato un problema. Perché è stato creato appositamente per comandare solo climatizzatori. Nient'altro. Quindi è un prodotto molto valido, molto più caro di Broadlink. Si, decisamente. Ma che ha delle prestazioni decisamente migliori di Broadlink. Appunto in questo video tratteremo solo l'unboxing e il contenuto e vedremo anche i materiali con cui è costruito questo bel prodotto. E poi vedremo cosa c'è all'interno della confezione. E poi in un successivo video ci specializzeremo nell'installazione e nella configurazione del prodotto. Sempre passo passo. Anche perché la cosa che ci ha sollevato parecchio e abbiamo deciso di farlo in settimana questo video e dopo ve lo diciamo sinceramente subito dopo faremo quello dell'installazione. È data dal fatto che ci hanno detto e abbiamo letto su parecchi siti che per installarlo è veramente semplicissimo. La configurazione è ancora più semplice dell'apertura della scatola per dire. Strano. Lui voleva una cosa tipo Broadlink. Spreoccupare. Quando dovremmo fare Broadlink con Google e con Alexa ci faremo due risalti. Ci divertiremo. Ci divertiremo. Bene. Bando alle ciance. Ragazzi iscrivetevi al canale mi raccomando. Attivate la campanellina. Lasciate un bel mi piace che non vi costa assolutamente nulla. E beccatevi la nostra nuova. Sicla. Partiamo con l'apertura del pacchetto. Allora vediamo un po' cosa c'è all'interno. È arrivato appena oggi pomeriggio quindi è bello fresco fresco. È fresco il paciarotto. Oh. Che bello. Poi faremo i nostri commenti. Ma direi che è bello. Ma esteticamente mi piace. Anche la confezione è molto curata. Guarda c'è dentro la gomma piuma. Vediamo cosa c'è. L'altro c'è qui sotto. Chissà se ci mettono la presa di corrente. Cosa che invece su questo punto. Generalmente non c'è. Ragazzi. Ma qui proprio alla stragrande. Oh porca miseria. No. Ci hanno dato quella meragana. No. Quella inglese. Serve l'adattatore. Invece no. C'è tutto. Quella italiana. C'è qui proprio abbondantis abbondantum. E poi il cavetto. Quindi andiamo a ricapitolare. Abbiamo il nostro bel dispositivo. Tac. La nostra bella presa italiana. Tac. La nostra bella presa inglese. Tac. Dolcissimo in fondo. Il cavetto. Tac. Tac. Qui dentro non c'è più nulla. No. Tac. Questo qui lo mettiamo via. Tac. Tac. Istruzioni. Istruzioni. Sono comprese nel librettino. Dai fantastico. Dovrebbe essere veramente semplice. Poi vedremo. Tac. E tac. Insomma. Vai. Senti. Sentiamo se questo qua è libidinoso o no. è una leggera libidina. Eh sì. Ci sta. Ci sta. Pompi al libidino. Guardiamo nella parte posteriore. Troviamo la micro usb per il collegamento all'alimentazione. I due attacchi o adesivo o a vite per poterlo collegare al muro. Nella parte anteriore qui ci saranno i sensori per poter comandare. Da questa parte troviamo delle fessure che sono i rilevatori per quanto riguarda l'umidità e la temperatura in casa. Questo è il contenuto della confezione. Il prodotto comunque è ben fatto anche se comunque la plastica è molto leggera. Piccolino. Discreto. Secondo me i colori comunque si adattano bene a più o meno qualsiasi tipo di ambiente. E poi ottima idea quella di poter dare la possibilità di utilizzare l'adesivo. Oppure chi volesse utilizzare anche la vite da poter collegare al muro. Altre cose da dire sul dispositivo e che ci ha piacevolmente sorpreso come dicevamo prima il fatto che mettesse anche l'alimentatore dedicato. Abbiamo visto insieme il prodotto, come si presenta, cosa c'è nella confezione e per adesso le prime impressioni sono sicuramente positive. Vedremo poi in fase di installazione e soprattutto la procedura per poterlo far funzionare. E poi approfondiremo molto l'app perché abbiamo potuto leggere su parecchi siti che dà parecchie possibilità. Addirittura il dispositivo dà la possibilità di rilevare le persone quando sono in casa e quindi impostare. Quando entro in casa fai partire il climatizzatore sia pompa di calore sia freddo oppure quando esco di casa per non dimenticarsi il climatizzatore acceso. Nel momento in cui non rileva più movimenti all'interno della casa spegnerà il climatizzatore. Ma questo tutto nel prossimo video. Comunque sono veramente tante funzioni che secondo noi giustificano il prezzo. Soprattutto con 10 euro in meno che l'abbiamo pagato lo giustificano ancora di più. Detto questo anche questo prodotto lo troverete qui sotto nell'info box dove mettiamo di solito i link che si collegano direttamente ad Amazon dove troverete tutti i prodotti che abbiamo testato e che ci sono sembrati comunque buoni da potervi suggerire. Ma in più troverete anche altri prodotti che magari abbiamo solamente visualizzato e che sono nella nostra lista dei desideri ma che nel frattempo se eventualmente volete potete acquistare. Questo finirà tra quell'elenco che abbiamo finalmente comprato. E l'unica cosa che mi viene da notare adesso proprio al volo poi la terminiamo qui è che andando ad attaccare il cavo dell'alimentazione naturalmente ci rimarrà un filo a peso. Ecco è vero. Adesso è una prima considerazione che poi approfondiremo nel prossimo video però tu simula l'aggancio al muro e questo va qua e quindi la presa o a meno che non ce l'avete in aria ma dubito che ce l'avete in aria. E lo sennò va in basso e quindi allora o mettevano una soluzione con delle pile però poi vi costava di pile. E anche perché secondo me appunto alimentarlo con le pile ti devi cambiare parecchie pile. Però questa soluzione magari ti porta un po' a dover prendere una canalina per essere un po' meno angistica. Sì diciamo che con le canaline che fanno adesso che sono abbastanza nascoste come nel video che avevo fatto delle strisce led io avevo un alimentatore che praticamente era il doppio del sensibo. E alla fine ho dovuto comprare una canalina spessa così. La fortuna è stata che la canalina è bianca, il mio muro è bianco e a colpo d'occhio si mimetizza perfettamente. Diciamo che quando poi andremo a decidere dove collegare questo per comandare i climatizzatori e lì dovrò ingegnarmi a vedere se anche in quella posizione riuscirò a trovare un modo per poter nascondere il filo che scende da giù. Giusta osservazione? Così, una prima osservazione. Poi anche la lunghezza del filo, sì è bella lunga. È non tantissimo però in effetti. Però se calcoli che i climatizzatori di solito sono abbastanza in alto, il sensibo... Vediamo, magari fa la traiettoria del segnale perpendicolare. Almeno da quello che ho letto ha un'ottima portata, cioè non ha grossi problemi a raggiungere i climatizzatori. Scusate, stiamo disquisendo mentre voi ci ascoltate. Ci vengono in mente, le diciamo. No, no, è giusto, cioè ci mancherebbe. Sono dubbi e perplessità che ci vengono in mente. Quindi non ci resta altro che ricordarvi i link. Vi invitiamo nuovamente ad iscrivervi al canale. Sosteneteci perché grazie al vostro sostegno riusciamo a portare nuovi contenuti. Un bel mi piace al video, ragazzi. E seguiteci perché poi il prossimo sarà relativo alla configurazione e all'installazione del sensibo Sky. Al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.